Siamo al Teatro Pavarotti di Lini per parlare della piscina. Cosa succederà oggi? Cosa illustrerete ai potenziali fruitori della piscina? Allora, intanto la presa di coscienza nostra e anche speriamo quella del territorio di avere un impianto totalmente sui generici. Tanto è vero che abbiamo deciso di chiamarlo col suo stesso nome, o almeno con il nome che gli si appropria, gli si dice di più, cioè lo stadio del nuoto, della palla nuoto e del sinco e dei tuffi anche. È una struttura che ci ha colpito per caratteristiche, per unicità anche nel territorio nazionale, forse ce ne saranno altre due o tre di queste entità e soprattutto la sinergia trovata con l'amministrazione comunale e l'intese che poi ne sono venute derivate, ci ha convinto ad accettare la sfida. Avete la piscina in mano diciamo dal mese di dicembre, quali sono le difficoltà principali che avete trovato dal momento che era chiuso da parecchio tempo per più di un motivo? Allora, intanto le chiavi consegnate intorno al 20 di dicembre, un poco più da questa data, ovviamente in piena attività natalizia, significa avere fornitori, però l'impianto dal punto di vista della struttura, il comune aveva già fatto degli interventi per cui la struttura l'abbiamo reso operativa dal punto di vista poco impiantistico in brevissimo tempo. Più che altro ci siamo un po' allungati sulla parte di reception, di front office, layout, perché a parte la parte sfogliatoica era già completamente attrezzata, tutta la parte del front office era completamente sguarnita, quindi anche quello diciamo che in 20 giorni siamo riusciti a metterla dignitosamente in attività. Se volessimo dare un appuntamento ai potenziali fruitori, aspiranti, nuotatori, pallanuotisti, tuffatori? Beh, non trovate nel giro di 50 km in provincia di Torino un impianto così, quindi se siete appassionati di nuoto sapete cosa sto dicendo. E vogliamo ricordare l'indirizzo? Allora, è in via Volpiano 38D a Leini, presso la cittadella dello Sport. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.